Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale JerichoProd Sonny Moore, classe 1988, di chi sto parlando? Ma di Skrillex naturalmente! Ma perché parliamo di Skrillex? Che nel brano a seguire che ho composto appositamente per voi Ho creato un tipico suono di Skrillex che si usa nel genere dubstep Chi ama il genere come me, ha l'ambizione a diventare un producer E non ha voglia di sbattersi a ricrearlo? Glielo regalo io Basta iscriversi alla mia pagina, dentro trova il link per scaricarlo Questo è quanto, ascoltatevi il pezzo e ci vediamo dopo Ciao! Grazie a tutti! Ok, allora apriamo il nostro Serum, ce lo sistemiamo Ora nella Wavetable abilitiamo il nostro oscillatore, disegniamo questa forma d'onda Per ragioni di tempo ovviamente taglio questa parte Ok, tiriamo giù di due ottave Alziamo al massimo la nostra Wavetable Position Assegniamo FM From B e portiamo il livello a 0 Scendiamo giù e costruiamo il nostro Elfo Ok, drag in Wavetable Position e in Level Corriamo nella seconda finestra Wavetable Assegniamo un Basic Shape Alziamo di un'ottava Table Position e Level tutto a 0 Ci voliamo in zona Filter Half past 12 Cut off a 25 Hz Resonance Resonance al 50% Draghiamo un po' di Half U Moduliamo cut off al 33% Resonance a 14 And drive al 56 Frequenza 80% Anche qui drag A meno 14 Finish Voliamo sul nostro FX Panel Attiviamo tutti gli effetti Tranne Chorus e Filter Soft Clear Pick up at the drive Compressore Multiband Trash a meno 14 Hyper Size 4 Mix 50% Fuzzer Velocità e Profondità 0 Frequenza 58% 23 Alpha E anche qui mix 50 EQ Low Frequenza 38 Hz Peak Campana stretta E abbassiamo il gain a meno 3,8 Ok anche qui drag and drop 28 Gain 2443 Hz Qui 0 Gain 6.1 50% Mix Feedback Drag and Drop Drag and Drop Togliamo il BPM Link Molto veloce Giochiamo col Ping Pong Kick the Mix And drag Andiamo sul nostro Plate Chiudiamo il nostro Size e Pre Delay Low Cut High Cut Bagniamo al 28% Mix al 30 Drag and Drop And this is the end Ciao Tag Tag from work Lui Tag X Cor Grazie a tutti